e ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di chrysabbo il canale per chi è nabo signori oggi siamo tornati su past 2018 come sempre e oggi andiamo a fare ok devi ottenere cinque giocatori elegibili ok entro si voglio entrare in questa facciamoci prima questa tranquilli inshallah giocatori inclusi in squadra 8 giocatori che devono essere in squadra 5 va bene così allora vediamo chi è lui e dove gioca finalmente ritorna il chi è lui e dove gioca di online nome squadra tintin facciamo casino bella valutazione 562 12 partite 5 perse 5 vittorie 2 pareggi va bene non sento ancora un cazzo sento bassissimo non che mi dispiace questa cosa però che bel passaggio porco due che bel passaggio guarda il gol oddio la parata si le sentiamo tantissimo è il nuovo de ghia aia una pallonata in faccia iniesta non si fa non si fa esultanza gol esultanza gol esultanza figlio di pu... sei serio? che cazzo di apertura gli ho fatto e l'ha tirata sul portiere sto perdendo 1 a 0 contro 1 che ha fatto un tiro in porta da due tiri in porta quattro tiri due in porta e non entra e non entra e vabbè l'avete visto? mi ha deselezionato l'uomo prima di staccare di testa ma sei serio? bella paolo bella di bala all'86esimo devo fan casino per fan gol mi cambia gli uomini alla cazzo non assistito ma non assistito il cazzo quello starà rosicando malissimo starà rosicando continuo e poi di bala va bene a noi gabi mi sembrava paolo mi sembrava è la posizione di paolo invece c'era gabi dove cazzo era di bala? boh va bene 2 a 1 per noi questo starà rosicando tantissimo ragazzi questo starà rosicando tantissimo guarda che adesso non perde più tempo guarda che non perde più tempo ah? non te la passi in difesa la palla eh non cazzeggi dai dai guttigno dai guttigno dai così 3 a 1 dai mettiti lì a cazzeggiare a coglione a coglione mettiti a cazzeggiare fai melina adesso eh non la fai più melina pezzo di merda aspetta la playstation aspetta la cazzo playstation fuori dalle palle risabo troppo forte troppo forte ma che cazzo sto scherzando e poi mi dico no sto scherzando campionato portoghese 4 stelle io sono curioso di vedere se il campionato portoghese a 4 stelle non esiste cioè non c'è nessuno nel campionato portoghese a 4 stelle io mi cazzo eh mi cazzo sappiatelo sappiatelo signori abbiamo comunque vinto la gente io direi quindi di andare a girarcelo perché ce lo meritiamo non è vero ha staccato tantissimo però uno che mi fa melina tutta la partita perché alla prima azione che ha fatto ha fatto gol mi fa melina tutta la partita mi rompo il cazzo quindi quando ti segno mi esalto un tot e quando poi vado a farti anche il 3 a 1 godo come un riccio come lo striscione no? godo come un riccio esatto prima però devo fare una cosa ci vediamo tra poco ci siamo signori spanish league stars a livello 1 secondo voi cosa prenderemo? niente un altro argento del cazzo quindi non sperateci troppo guarda vado a schiacciare perché non ho fi cazzo oh il joystick che sta caricando ma rotto il ca vado a schiacciare tutti i argenti tutti i argenti raga tutti i argenti ho vecchio un giro bonus o te la prendi nel culo tantissimo eh oddio un oro che cuore chi è? ah correa esterno destro alto atletico dei madride bella 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 signori anche l'appuntamento di oggi termina qua io spero che vi sia piaciuto a me è iniziato di merda però mi è piaciuto un sacco mi piace un sacco quando queste merda che fanno melina se la prendono nel culo perché crisabo iniziano a funzionarli due passaggi di fila no? mi piace un sacco signori ci vediamo domani con un nuovo video come al solito iscrivetevi al canale se non l'avete ancora ancora fatto lasciate un bel commentino un bel pollice in su e noi signori ci vediamo domani ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi bella signori ciao 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 ciao